segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te si naturalmente il senso del viaggio sta cambiando completamente anche perché come abbiamo visto alcuni degli incontri se non addirittura tutti con con egitto giordania e abu mazzin sono saltati e quegli incontri avevano il senso di cercare anche una minima traccia per ridurre la tensione per evitare che il conflitto si allargasse in una maniera irrimediabile scusami direttore scusa solo